Ed eccoci qua. Il canale YouTube ha raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni. Sono emozionata e mi fa tanto piacere. In qualche modo l'interesse per quello che faccio, ovvero la mia indipendenza, è riportato agli altri, nel senso che è una cosa che si desidera fare. Seppure non si hanno tante conoscenze, come anche io d'altronde prima non avevo, fino a quando non ho ricordato la vita dei miei bisnonni, soprattutto delle mie bisnonne. E che dire, io vi ringrazio, vi ringrazio davvero, vi ringrazio per il supporto che mi date, per la fiducia che mi date, di vivere una vita semplice, perché è molto semplice raggiungere l'indipendenza, l'autonomia, l'autosufficienza in tutto. Sì, perché io sono arrivata al punto di… non ho bisogno più di nulla, non ho bisogno più di acquistare nei supermercati e non sapere quello che eventualmente nel cibo è messo oppure in altre cose. Io sono davvero emozionata perché non avrei mai pensato di poter raggiungere questo traguardo. Era una sfida la mia, sì, ma due milioni di visualizzazioni del canale YouTube sono un compenso, nel senso che ripagano il lavoro, cioè nel senso il cercare di trasmettere quello che si può fare con le proprie mani oppure cercare nei campi incolti o nei boschi, perché è la natura che ci dà tutto, mentre noi stessi la stiamo distruggendo purtroppo. Io sono contenta e, ripeto, sono molto emozionata, seppure penso che sia qualcosa che possa aiutare tantissimo anche gli altri ed è stato quello il motivo perché ho aperto questo canale e il motivo perché ho cercato di farvi partecipe della mia vita e soprattutto dei rimedi naturali che le mie bisnonne mi avevano tramandato. Non sono tutti quelli che adesso finora ho pubblicato nel canale, ma arriveranno gli altri perché, ripeto, io sono da tantissimi anni, ma tanti tanti anni che non vado più da un dottore, che non varco più la soglia di un supermercato, che non attingo più al prodotto finito, ma me lo faccio e vivo bene, non ho bisogno di dottori, non ho bisogno di nulla, sono felice. In questo modo ho raggiunto la mia stessa felicità con l'autonomia, ho raggiunto la mia felicità, certo, perché essere liberi dal consumismo oppure dalla propaganda o da tutto quello che il mondo esterno ci propone significa essere felici, essere felici dentro, essere felici sempre, con quelle piccole cose che magari un po' chiunque, anche io prima, non notavo nemmeno, mentre sono prodotti e cose fondamentali e non le vedevamo, io stessa non le vedevo prima, fino a quando non l'ho ricordato, ripeto, è importante, ma io soprattutto adesso sono qui per ringraziarvi perché sono davvero… non l'avrei mai immaginato e sono felice perché non è da tanti tanti anni che ho aperto questo canale YouTube, ma sono i tre anni e quindi raggiungere due milioni di visualizzazioni in tre anni senza conoscenza informatica, senza marketing, senza qualcuno che mi ha aiutato oppure qualcuno che mi ha detto lo propongo in quel gruppo, lo propongo in quel gruppo… no, no, cioè è stato… non so… questo significa che c'è interesse, l'interesse in una vita indipendente c'è. Io vi auguro soltanto di poterlo raggiungere al più breve tempo possibile, perché i tempi sono quelli che sono attualmente. Cercate di farlo, cercate di trarre gli spunti da quello che io pubblico nel canale, perché è facile raggiungere l'indipendenza, è facile raggiungere l'autosufficienza, ed è facile trarre dalla natura tutto ciò che ha a che fare con la nostra sopravvivenza. In tutto, nel curarsi, nell'alimentazione, nell'igiene, in tutto. La natura ci dà tutto. Ripeto ancora, io ringrazio voi tantissimo e un bacio, grazie, grazie ancora.